Buonasera a tutti! Stasera, dopo aver pregato il rosario, parliamo di santi paproni. Nella nostra vita inseguiamo tantissimi obiettivi. Finiamo la scuola, scegliamo l'università, perché ci dobbiamo laureare, perché dobbiamo trovare un buon lavoro, e poi dobbiamo trovare qualcuno con cui condividere la nostra vita, perché ci dobbiamo sposare, dobbiamo raggiungere obiettivi, dobbiamo raggiungere il successo. Poi ad una certa ci fermiamo e ci chiediamo ma sì, ma che senso ha tutta questa fretta? Che senso ha la nostra vita? Ma siamo veramente felici? Ci sono delle persone che hanno capito tutto dalla vita, hanno capito qual è il senso. Queste persone sono i santi, non hanno inseguito obiettivi di successo, ma hanno capito l'essenziale. Il senso è Gesù, il senso della nostra vita è Gesù, ed è donarci completamente per gli altri, nel posto in cui il Signore ci mette, con i doni che il Signore ci fa. Dice Chiara Corbella, siamo nati e non moriremo mai più. Non c'è frase più bella che ci fa capire da dove partiamo e qual è la nostra destinazione. La nostra destinazione è infinita, la nostra destinazione è Dio. Anche la nostra destinazione è quella di diventare santi, ovvero di andare dove il Signore ci chiama e compiere lo straordinario e l'ordinario, cioè donarci con quello che il Signore ci ha dato a Lui e agli altri. Quindi il fioretto per questa sera è questo, chiedere al Signore, fare al Signore una preghiera. Signore, che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, dove vuoi che io ami? Signore, dove vuoi che io ti serva? Facendo questa domanda il Signore non ci farà mancare la sua risposta. E questa è l'unica risposta che ci permette di realizzarci ed essere davvero felici della nostra vita, aver una davvero una vita compiuta. Arrivederci, buona serata. Buona serata, buonanotte.